Ti criticheranno sempre e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore. La vita è come un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali. Canta, balla, rigi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita, prima che l'opera finisca priva di applausi. Ho danzato nelle chiese, nelle piazze, ma non volevo che questo mio lavoro fosse solo d'elite. E anche quando ero impegnata sulle scene più importanti del mondo, tornavo in Italia per esibirmi nei posti più dimenticati. Norehien mi sgridava, ti stonchi troppo, mi diceva, ma a me piaceva così e il pubblico mi ha sempre ripagato. Professor Landon, il capo della polizia vorrebbe il suo aiuto. Dio. Se l'è fatto da solo col suo stesso sangue. È possibile? But Diamonds are a girl's best friend. Al tre, pronta? Uh-huh. Uno. No! Oh, mio Dio! Scusa, l'ero spaventata. Che numero preferisci? Tre. Sì, facciamo al tre, va bene. Ok. Sai volare? Vieni sull'isola che non c'è. Tu sei la risposta alla domanda siamo soli nell'universo. Si affretteranno a seguirti. Sto furando. Jack! Attraverà! Oh! È! Mora! Sì! Sì! Grazie a tutti.